Buona la prima ragazzi, buona la prima un po' risicata perché un po' risicata però l'Italia l'ha svegnata con un 2-1 tutto maturato nei primi 20 minuti di gioco e poi consolidato nel finale anche se mi viene a dire una cosa che dico sempre alla squadra che tifo qua dietro che è campionessa di queste cose che le partite vanno chiuse prima di gestirle. Ed è quello che abbiamo rischiato sul finale con quelle due occasioni, soprattutto la prima per l'Albania. Questa era una partita dove i tre punti andavano presi proprio d'ufficio, era una partita che se vuoi continuare questa avventura devi assolutamente vincere. Dall'altro lato capisco il risultato non così netto poiché i giocatori a livello qualitativo non sono quelli dell'Europea di tre anni fa e quindi se si abbassano un pochino i ritmi alla prima partita per poi spingere un pochino di più nelle partite successive secondo me è pure lecito. Arriviamo al dunque, allora intanto partiamo dal gol preso dopo 28 secondi che è una figura di merda perché è una figura di merda però io ero sicuro che nonostante quel gol l'Italia poi l'avrebbe ribaltata. Italia che poi l'ha effettivamente ribaltata prima a un'occasione di Pellegrini che mi sto ancora chiedendo come abbia sbagliato quel gol lì perché è veramente un rigore in movimento. Poi ci pensa Bastoni e ci pensa Barella con un gol bellissimo di controbalzo da fuori area, dal limite dell'area. Che ricorda un po' il gol di Fulcrug ieri sera contro la Scozia. Il fatto sta che a livello, io vedo un'Italia proprio opposta rispetto a quella di tre anni fa. Tre anni fa c'era Chiellini, il miglior difensore italiano degli ultimi vent'anni. C'era Di Lorenzo secondo me migliore, c'era Spinazzola. C'era Immobile che secondo me era tanto tartassato ma Immobile di tre anni fa, capocanonia della serie A, comunque era Immobile. Un Chiesa che tre anni fa giocava molto meglio rispetto a quello di oggi. E altre persone che hanno abbandonato la nazionale ho fatto un downgrade, ricordo c'era anche Verratti. Il punto ragazzi è che l'Italia di Mancini a livello di gioco non mi è mai piaciuta, e questo non ho problemi a dirlo. La vedevo un gruppo molto unito, lo vedevo un gruppo molto affiatato, però a livello di gioco non era proprio la miglior cosa da vedere. Quest'anno invece, almeno per la prima partita, vedo un'Italia proprio l'esatto opposto. Vedo un'Italia che a livello di individuali ha delle lacune, perché ha delle lacune? Scamacca secondo me, fuori da Gasperini, con Gasperini lontano, non sarà lo Scamacca che abbiamo visto in serie A. Quindi per cui, se c'è una cosa che può salvare questa nazionale, è il gioco. E io ho sempre detto da anni che Spalletti è uno dei miei allenatori preferiti, e anche stasera Spalletti è dimostrato a livello tattico, 10 giorni di aver fatto secondo me un lavoro degno di nota, ma soprattutto un lavoro che avremo modo di apprezzare nelle partite a venire. La prima partita ragazzi è sempre la prima, è inutile spremersi. Va bene così, anche se secondo me il 3-1 eravamo sia in grado di farlo, che proprio ragazzi andava fatto. Tanti dicono, eh, beh, blocco Inter, ragazzi, è abbastanza normale che la squadra che vince il campionato o la Champions League porti i propri giocatori nazionali, anche perché l'italiano in Milan non ne ha a Calabria, ma per il bene della nazionale lasciatelo a casa Calabria, per il bene della nazionale. Per vent'anni c'è stato il blocco Juve, a USA 94 c'è fu il blocco Milan, e è normale che poi i cicli si aprano e si chiudono. Magari al Mondiale avremo il blocco Fiorentina, che ne so. Fatto sta che c'era tanta Serie A, anche nell'Albania, Etrit Berisha, Dim City, Kumbulla, Esmaili, Isai, Aslani, Ramadani, Medon, Berisha, Bairami. Tutti i giocatori di Serie A, ben nove, che fanno quattordici, se presi anche ex giocatori della Serie A, tipo mi viene in mente Stracoscia, chiedo anche Manai. Infatti il gol dell'Albania viene proprio segnato da un giocatore di Serie A, che è Bairami, che giocava nel Sassuolo, vediamo quest'estate dove approderà. Tornando a noi, io ho visto un'Italia molto cresciuta rispetto all'ultimo uscite, che era la Nations League, le amichevoli varie. Ovviamente con ritiro, con raduno, Spalletti ha avuto modo di conoscere i giocatori, e di dare anche un po' un senso alle nazionali, che non è facile farle giocare. Non è per niente facile. Secondo me il giro in Italia lo passa, io sono convintissimo, secondo me può anche passarlo come seconda. Come prima la vedo molto dura perché dovresti battere la Spagna, ma io l'ho visto giocare oggi, ragazzi, lasciamo veramente perdere perché sono una cosa ingiocabile. Però, mai dire mai, abbiamo battuto a rigori tre anni fa, abbiamo battuto pure l'Inghilterra. Tutto ci può stare. Detto questo, mi aspettavo un pochino di più dal secondo tempo, questo sì, me lo aspettavo un pochino di più perché visto come la partita, il gol dell'Albania, poi ha due gol dell'Italia, mi immaginavo qualcosa di più scoppiettante. L'Italia che ha avuto le sue occasioni, soprattutto il palo di Frattesi, che avrebbe praticamente messo un 3-1 e congelato la partita, il non capitalizzare o l'abbassare troppo i ritmi ha comunque portato a un paio di occasioni sul finale per loro, però poi alla fine l'Italia è nascita vincitrice e questo è quello che conta. Magari qualche gol in più sarebbe servito per le statistiche. magari dovessimo arrivare a contare la differenza a reti. Uno o due gol in più schifo non fanno. Detto questo, questa è la mia analisi, non è che ci sia tanto da dire perché è sì la prima partita, ma è stata pure giocata, secondo me, non dico al 50%, ma al 60% di queste vere possibilità dell'Italia. Io non credo che si ripeta quello che si è visto tre anni fa perché le altre nazionali sono strepitose, ma si guarda la Francia, la Spagna, l'Inghilterra che hanno messo dentro un sacco, anche il Portogallo, che secondo me il Portogallo arriva in finale, hanno messo dentro un sacco di nuovi innesti, termine sbagliatissimo perché non c'è il mercato nazionale, però hanno fatto un buon lavoro sui giovani, noi arranchiamo tanto, questo purtroppo va detto, però finché non è il campo a parlare possiamo fare solo supposizioni. Detto questo, ripeto, vi ringrazio, like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani per la live reaction, che è tornata, dopo tre settimane di sosta dall'ultimo Milan-Saneritana, e poi ci vediamo anche su TikTok, quello è molto importante. Grazie ragazzi, alla prossima, sempre Forza Italia!